Una cosa inaspettata sta facendo discutere la città della Contea. La storia quasi buffa, ma non troppa, vista il periodo emergenziale, è successa ad Emanuele Cavallo, precedentemente coordinatore di Fratelli d'Italia, e oggi vittima di uno scherzo quasi sanitario, se scherzo si può definire. Al signor Cavallo è arrivato esito negativo nonostante non avesse mai fatto tampone. È lui stesso a dichiarare quanto. Il messaggio mi è arrivato sul cellulare con la firma del sindaco Ignazio Abate, ma io non ho mai fatto screening. Non so nemmeno dove si trovi il posto per poterlo effettuare. Emanuele Cavallo, oltre ad aver subito informato il sindaco, ha scritto un post su Facebook, chiedendosi e chiedendo ai suoi tenti come si stanno svolgendo queste operazioni sanitarie. La questione ha sicuramente sollevato dei dubbi, dubbi che però erano stati riscontrati da diversi utenti un paio di settimane fa, dove sempre tramite un post lamentavano di lettere con esito invece quella volta positivo, senza mai aver effettuato il tampone. Su come le autorità abbiano avuto il numero di cavallo è ancora tutto un dire. Potrebbero essere tante le supposizioni. Una di queste è se fosse un omonimo e fosse stato confuso per via dell'indirizzo stradale. Non è mancata la replica del primo cittadino Abate che si è mostrato infastidito per quanto successo. Ha così denunciato la circolazione di messaggi in rete dagli esiti manipolati effettuati in drive-in nell'area della protezione civile nella zona artigianale. Il sindaco, quale massima autorità sanitaria in città, lancia l'allarme e chiarisce che l'esito dei tamponi per il covid test ha procedure ben precise. Se è positivo, viene data la comunicazione telefonica al cittadino e l'esito viene consegnato successivamente breve mano alla persona interessata. Se l'esito è negativo, non viene fatta telefonata alcuna e la persona interessata può ritirare dal medico curante l'esito. Da precisare che l'ente da domenica 22 novembre non ha inviato alcuna comunicazione informatica in ordine allo screening effettuato. È veramente paradossale e inquietante quello che mi è stato segnalato, commenta il sindaco Abate. Qualche responsabile privo di scrupoli si prende l'iniziativa di inviare messaggi in rete all'utenza manipolando gli esiti dei tamponi, creando allarmi giustificati e per tale ragione invito l'utenza a stare in guardia da queste false comunicazioni. Ho già dato mandato all'Avvocatura Comunale di redigere una denuncia specifica da inviare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.